Buongiorno a tutti, era per Giovanni Salimbeni e benvenuto nel canale dedicato agli strumenti ottici e digitali. Chi mi segue ricorderà che lo scorso aprile provai l'ICMICRO LINKS PRO HDLH19. Oggi vi parlerò del modello LH25 che costa 1620 euro ed è contraddistinto da un ottimo rapporto prezzo prestazioni. Sul sito termicienotturni.it è ovviamente disponibile una recensione molto approfondita. Io comunque ve ne parlerò in questo video tra poco, dopo la breve sigla. Come potete vedere questo visore termico è molto compatto. La mia bilancia elettronica ha stimato un peso di 305 grammi tappo dell'obiettivo e cinghia inclusi. È lungo circa 15 centimetri ed è protetto da uno scafo in policarbonato. Anche in questo caso è previsto il sistema rapido a 4 pulsanti. Nella parte inferiore invece è presente la porta USB-C che è preposta alla ricarica e al trasferimento dei dati e una filettatura con passo 1 quarto e 3 ottavi per avvitare le piastre fotografiche. Il vano è protetto inoltre da un tappo di gomma che consente di mantenere la impermeabilizzazione. Il sistema di messa a fuoco si attua muovendo la ghiera nei pressi dell'obiettivo e la sua rotazione è fluida, priva di impuntamenti o giochi, essendo poi un obiettivo aperto a F1. Come sempre dovrete curare attentamente il raggiungimento del punto di fuoco, visto che la profondità di campo è minima. Per quanto riguarda la regolazione del diotri e per regolare la visibilità del display è disponibile la rotella laterale che è meglio utilizzare senza i guanti invernali, viste le sue piccole dimensioni. L'obiettivo frontale in questo caso ha un diametro di 25 mm, quindi rispetto all'obiettivo della 19 mm dell'EH19 il suo potere risolutivo sale a 4,8 secondi d'arco contro i 6,31 del modello da diametro più piccolo. Per chi non fosse avverso a tale unità di misura posso confermare che un secondo d'arco corrisponde a un 3.600 di grado ed indicherebbe la distanza angolare minima tra due oggetti sufficiente per distinguerli come separati. All'atto pratico quindi e non solo teoricamente, l'aumento di potere risolutivo del modello da 25 mm a parità di sensore e di software è decisamente visibile. L'oculare proietta l'immagine del display LCOS da 1280x960 pixel. L'aggiornamento delle immagini sullo schermo è ottimale anche durante la fase di inseguimento degli animali. regolando attettamente la luminosità in base alle proprie esigenze è possibile utilizzarlo per molto tempo, anche se consiglio come sempre di fare delle pause ogni 10 minuti per riposare la vista. Il paraluce dell'oculare è retrattile ed è composto da materiale morbido che facilita il comfort di utilizzo e consente anche ai portatori di occhiali di sfruttarne l'estrazione pupillare. Il sensore è identico al modello da 19 mm di diametro, quindi è un sensore che fornisce una risoluzione di 384 pixel per 288. Tuttavia grazie all'obiettivo di maggior focale il campo di vista è diminuito da 13,8 x 10,4 gradi a 10,5 x 7,9, anche perché ha aumentato l'ingrandimento. Fornisce sempre un pixel pitch di 12 micrometri e un valore NdT che è inferiore 35 mK a 25 gradi, con l'obiettivo ovviamente in dotazione aperto a F1. Le immagini fornite sono nitide e contrastate, visibilmente più dettagliate, già verso i 50-80 metri rispetto al modello da 19 mm di diametro. I progettisti hanno deciso di optare per una memoria integrata da 8 GB. Non è possibile utilizzare schede esterne microSD. Un'immagine in bianco e nero vi posso dire che pesa in media 40 KB, mentre un filmato di 26 secondi, sempre in modalità bianco nero, circa 7,30 MB. Non dovreste avere quindi bisogno di spazio aggiuntivo anche dopo un'intensa settimana di utilizzo. È possibile scaricare le immagini sia attraverso l'app, sia tramite un normale cavo USB-C, ricordandosi, come sempre, di disattivare le impostazioni Wi-Fi del visore termico. Con il cavo in dotazione questo visore termico si è caricato inoltre in circa tre ore e mezzo. Il led rosso attesta la fase di caricamento quando il led è verde, invece il caricamento è stato completato. Durante il periodo del test sul campo le temperature notturne erano comprese tra i 10 e i 6 gradi e in tale frangente sono riuscito a utilizzare il Lynx Pro HD LH25 per circa due ore e per tre serie di fila. Ricordo ai lettori che all'interno dell'articolo troverete schematizzate le impostazioni ottenibili premendo tutti i pulsanti. Posso anticiparvi che questo visore termico si attiva in circa cinque secondi ed è già possibile osservare, ma per sfruttare completamente le sue funzioni, ad esempio registrare video, è necessario attendere altri 8-10 secondi. I pulsanti sono grandi abbastanza per essere utilizzati agevolmente anche con i guanti invernali. Adesso vediamo di parlare proprio delle impressioni pratiche sul campo. Vi posso dire che dopo aver utilizzato lo scorso mese di aprile il modello da 19 mm di diametro ero curioso anche viste le richieste degli appassionati di comprendere la reale differenza sul campo che poteva fornire il modello con un obiettivo ora 25 mm. In primi sono notato una maggior facilità nella percezione dei caprioli e dei cinghiali che compresa in un range di distanza migliore rispetto al modello da 19. Direi che siamo passati dai 100-150 metri ai 150-180 metri. Come potrete vedere nella video recensione anche i cervi a media distanza infatti offrono una buona percezione del dettaglio che si estende sino a circa 200-220 metri. Confermo inoltre la miglior percezione dei soggetti più distanti o quantomeno, diciamo così, dei pixel caldi visibili oltre 1100 metri. Per ciò che concerne lo zoom digitale, la pixelizzazione eccessiva dell'immagine avviene un paio di ingrandimenti in più rispetto al modello LH19. Personalmente se per un utilizzo a media distanza dovessi scegliere tra l'LH19 e il modello da 25 mm, la mia scelta cadrebbe su questo prodotto. I soldi di differenza spesi varrebbero senz'altro la pena. Oltre a ciò le solite caratteristiche di leggerezza e maneggevolezza lo fa in uno strumento di medio costo, ben trasportabile e facile a gestire anche a mano libera, almeno sino a circa 7x. Nulla di nuovo riguardo alla mia soddisfazione nell'utilizzare le varie funzioni, come il sistema Hot Tracking che consente, grazie all'attivazione di un cursore, di percepire i soggetti anche dietro il fogliame, oppure delle varie tavolozze colore disponibili, anche se, come ormai avrete capito, la mia preferita rimane sempre la nero calda, soprattutto in questo periodo di osservazione del cervo, visto che c'è sempre un po' di presenza di foschia. Direi che è giunto adesso il momento di parlarvi dei pregi e dei difetti. Dei pregi potrei dire, più risolvente rispetto al modello da 19 mm, un ottimo sensore in tale fascia di prezzo, un obiettivo aperto a F1, la rapidità di accensione, almeno per la prima osservazione visuale, il sistema Hot Tracking, il software di gestione delle immagini decisamente performante, una facilità di gestione delle impostazioni attraverso i pulsanti, una buona durata delle batterie, una memoria interna in grado di gestire anche varie uscite sul campo. Tra i difetti potrei citarvi, l'assenza del doppio sistema di salvataggio delle immagini, quindi con una scheda microSD esterna e la pressione prolungata per attivare la funzione video, non è tra le più rapide disponibili. In definitiva ritengo che il visore termico monoculare IC Micro Links Pro HD le H25 sia un ottimo prodotto, migliore rispetto al modello da 19 mm, per chi ha la necessità di ottenere una buona percezione dei dettagli su soggetti grandi come Cerve Caprioli, sino almeno 200 metri di distanza, in tale fascia ovviamente di prezzo. Ha un obiettivo da 25 mm, un sensore da 380 pixel e costa poco più di 1600 euro. Ricorda infatti ai lettori che sino a un paio di anni fa sensori del genere erano installati su prodotti dal costo decisamente superiore. È uno strumento perfetto quindi per l'ordine pubblico, per l'attività venatoria, il pattugliamento, i controlli antidroga, il contrabbando e il contrasto della criminalità, ma anche per gli appassionati di natura. Perfetto soprattutto per l'attività di sele controllo con possibilità di percepire dettagli dei cinghiali fino a 180-200 metri e per gli appassionati di natura che vogliono scoprire la vita notturna degli animali senza investire cifre troppo impegnative. Vi ripeto il prezzo, il visore termico monoculare Icmicro Links Pro HDL H25 costa 1620 euro IVA inclusa, prezzo suggerito dalla Origin STB ottobre 2022. Io ringrazio Mauro Spozio, direttore alle vendite di Origin STB, per aver fornito l'esemplare oggetto di questo test e per avermi consentito di citare le mie impressioni imparziali senza alcuna forzatura. Io termino qua, vi aspetto come sempre su questo canale, ci vediamo anche sul sito ufficiale che è www.termicenotturni.it e sul gruppo Facebook che è visori termici, visori notturni e fototrappolaggio. Se ancora non l'avete fatto inoltre potete iscrivervi a questo canale premendo sull'icona qui in alto. Un caro saluto a tutti per Giovanni Salimbeni e buone osservazioni diurne e notturne. Ciao ragazzi!